siamo con il secondo episodio oggi ragazzi ecco la controfferta della Torino eccola qui trattativa trasferimenti dove sta dove sta la controfferta della Torino allora Torino ci ha fatto una controfferta e così mi hanno detto ci stava scritto inviamo le offerte 3 e 4 c'è chi ci aveva fatto una controfferta c'è qua Benassi Ubi poi anche lui molto forte Taxidis beh poi sono giocatori che potremmo comprare mi interessa più Basel sinceramente mi interessano tutti gli altri Maximovic altro che potremmo prendere De Silvestri sempre altro che potremmo prendere Zappagossa Alejandro Castano Rossettini Rossettini quello che ci sarebbe sarebbe Aieti ma avere altri Rossettini forse non è un'altra cosa andiamoci 3 milioni e 5 super Rossettini però abbiamo in trattativa Rossettini Martinez che avevano fatto una controfferta in maggio vediamo un pochino poi come si svilupperà questa cosa se verrà tutti e 3 qui invece siamo qui ritornati però oggi vogliamo fare un'altra amichevole adesso questo lo possiamo fare ultima vinta contro il Pescara buonissimo adesso contro Inter no ce ne rimangono 2 non la possiamo fare va bene ragazzi allora qui in pratica ci sono arrivati delle controofferte e se volete poi sempre su SMILE NANGER vi vorrei portare un'altra challenge che che in pratica questa challenge sarebbe della WWS ve la vedete ve la vedrete con me il mio canale ve la vedrete con c'è il nostro sito e ce lo resego se volete fra poco arriverà un mio compagno appena arriverà faremo il video però si posso dire una cosa questo video che ho fatto che sto facendo e quell'altro video che faremo lo posteremo tutti e due domani vi dico che l'orario non c'è casuale casuale ci saranno due video al giorno e li metteremo capito quindi questo video fatelo come se fosse domani quindi possiamo dirlo almeno buon lunedì lunedì andiamo sul turno 1 al Torino poi ce l'abbiamo l'Atalanta poi il Pescara poi abbiamo l'Empoli vediamo tutti i turni il turno 1 abbiamo vediamo la formazione di casa e abbiamo come arbitro il nostro arbitro è Gianluca Rocchi poi dall'Atalanta contro l'Atalanta Creson e l'Atalanta siamo in casa avremo Mazzoleni contro il Pescara già battuto da 4-0 avremo Valeri contro l'Empoli invece abbiamo Miserio Rosa eccoci qua Tagliavento col Genova abbiamo Bergonzi con l'Empoli contro la Juve avremo Valeri di nuovo poi ancora Valeri non mi dire anche col crudone Banti è vero questo ragazzo contro la Roma di nuovo di nuovo Valeri non basta ma questo che cosa vuole Tagliavento poi Tagliavento Valeri Tagliavento orsato finalmente orsato col Cagliari poi avremo Bergonzi un'altra volta Bergonzi ma ah poi abbiamo il turno naturalmente un'altra volta con Tagliavento poi contro il Chievo avremo sempre Tagliavento contro la Fiorentina Valeri oh basta orsato un'altra volta contro l'Inter contro la Lazio avremo Bergonzi di nuovo oh Rocchi Rocchi di nuovo abbiamo Rocchi con noi finalmente contro il Napoli un po' cambiamo contro il Bologna avremo sempre Rocchi mamma di se eh ragazzi scusa per darvi un attimo a città allora ripetiamo dove cazzo eravamo allora contro il loro occhi va bene ah e ma no eh questo non parlare non dire ah finalmente abbiamo dei Marco uno nuovo sempre Valeri e tutto poi contro l'Empoli dagliavento la Password sala si l'ultima poi Banti contro un'altra volta torno Rocchi scala abbiamo Banti un'altra volta oh ma questo che vuole con il cretone Damato una nuova finalmente ecco Bergonzi di nuovo Bergonzi un'altra volta un'altra volta invece l'ultima sotto l'ultima sotto eh qua già fa abbiamo Damato Natavoto ma sempre gli stessi De Marco l'ultima sotto di merda poi abbiamo il cretone sempre usato ma no non usato però è top cattivo poi abbiamo Banti di nuovo Udinese da Giavento a Giavento contro l'Udinese poi ragazzi stiamo continuando a fama tanto per contro il Cagliari poi abbiamo Damato di nuovo oh ma sempre gli stessi però Rizzoli solo una volta si Rizzolo me la sono anche amata ok abbiamo messo il mio chievo Rizzoli Fiorentina ok 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 poi De Marco l'abbiamo contro l'Inter contro la Giove abbiamo Rizzoli poi abbiamo un'altra volta Rocchi contro la Lazio contro il Napoli abbiamo orsato ah terza volta per Rizzoli e poi abbiamo Rizzoli contro la Bucci la finale di Coppa che noi non vediamo contro la Sampadoria abbiamo orsato vabbè ragazzi posso concludere il video ci vediamo alla prossima grazie a tutti